Il Ponte Movano non può fallire, ha assoluto bisogno di un successo. Dopo la partenza d'Endicap e la successiva rimonta, ora la squadra di Piccioni si trova nuovamente immischiata nella lotta per non retrocedere. Affronterà il Montesilvano, ormai salvo, almeno che non arrivino, brutte notizie delle abruzzesi di Serie D. Protesti al secondo minuto dei padroni di casa, che reclamano la concessione di un calcio di rigore per un presunto atterramento ai danni di Tourette. La gara si accende al dodicesimo, quando il Ponte Movano sfiora il vantaggio con Valentino Cernatz, che dal settore destro si accentra e fa partire una gran botta che sfiora la traversa. Un minuto dopo, brividi nell'altra metà campo, quando un cross basso di Besim Maloku attraversa tutta l'area di rigore, sfiorando il palo senza che nessun giocatore ospite riesca però a deviare verso la porta. Capovolgimento di fronte ed è ancora Tourette a provare a creare grattacapi alla retroguardia Montesilvanese. Dopodiché torna alla calma piatta, con il direttore di gara, Joukou Vumere, dell'Aquila, che tende a fischiare il meno possibile, senza spezzettare troppo il gioco. Occasionissima per il Ponte Movano al quarantaduesimo, quando si vede per la prima volta il bomber Polisena, che serve un cioccolatino a Valentino Cernatz, che spreca clamorosamente un'opportunità davvero ghiotta. Si riparte con un cambio nelle fila locali, con Dorazio che prende il posto di Porrini. Trenta secondi di gioco e Polisena la palla buona per regalare il vantaggio all'undici di casa, ma Ubertini gli dice di no. Al terzo si fa male Faenza e Piccioni deve ricorrere ad un secondo cambio forzato, gettando nella mischia Basilico. Al nono ci prova ancora Valentino Cernatz dal limite, ma il suo sinistro finisce nuovamente a lato. Sono sempre i padroni di casa a fare la partita, ma le occasioni latitano e gli attaccanti locali finiscono spesso in fuorigioco. Trentottesimo, numero uno ospite, compie un autentico miracolo sul colpo di testa, colpo sicuro di Polisena. Nulla può invece un minuto più tardi, quando sul cross di Basilico Polisena si prende la sua rivincita, trafiggendo Ubertini. Polisena, già ammolito, nell'esultare si toglie la maglietta e viene espulso, lasciando i suoi nel finale in dieci. Al quarantatresimo trema il Pontevovano, quando Marcedula impegna severamente Gava, che si fa trovare pronto e salva il risultato. che dopo tre minuti di recupero premia il Pontevovano con la fondamentale vittoria per una rete a zero. Bordoni, una buona gara quella del Montesilvano, poi è arrivata questa rete in chiusura di match del Pontevovano, ma comunque c'è la consolazione di aver ottenuto la salvezza matematica. Ma è stata una partita aperta a tutti i risultati, sapevamo che andavamo a giocare su un campo difficile, abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo preso un gol sulla nostra distrazione, però alla fine penso che possiamo essere tutte e due le squadre contenti del campionato che abbiamo fatto e della salvezza che abbiamo raggiunto, ecco, questa era la cosa più importante. Poi per quanto riguarda la partita, la partita maschia, dove l'importanza del risultato si è sentito, peccato quella giocata su un campo che magari poteva dare un po' più di spettacolo, però chiudiamo questa stagione positivamente sia noi che il Pontevovano e vediamo, speriamo che il futuro ci prospetti qualcosa di positivo, ecco. Mister Piccioni, oggi contavano solo i tre punti che sono arrivati con un po' di timore, con qualche brivido, ma è arrivata finalmente questa salvezza. Sì, sono emozionato perché credo che abbiamo fatto un vero e proprio miracolo sportivo, pensando da dove eravamo partiti, ho detto ai ragazzi prima della partita quanta amarezza, quante cose negative abbiamo vissuto soprattutto nelle prime sette partite e questa è la nostra rivincita. Sapevamo che la partita era difficile perché contro una squadra che comunque non regala nulla, una squadra che è venuta spensierata, noi avevamo tantissima paura, come è normale che sia, però oggi io sono l'ultima ruota del carro, credo che la salvezza è merito solo e esclusivamente della squadra e della società che ha creduto nel sottoscritto anche nei momenti di grandissima difficoltà.